Salve, bentornati, sono Gabri Costa. Siete pronti per vedere la seconda parte della missione finale di Metaslag 5, visto che stiamo parlando di Metaslag Anthology? Questa volta il boss finale da eliminare si chiama Avatar of Evil ed è un pericoloso demone, ma il suo punto debole è il teschio, cercate di mirare al teschio e distruggetelo, così se lo fate se ne andrà per sempre. Non sarà facile perché questo è il boss finale più pericoloso in assoluto, però mio fratello Alex Costa dice che è spettacolare, però state attenti quando tira la falce. Facciamo attenzione anche a queste palline blu e bianche, non toccatele mai, se no morite. Non c'è modo di eliminarlo, è stato daemone spregievole. E vai, eliminato per sempre. L'abbiamo sconfitto una volta per tutte. E così si conclude anche questo spettacolare videogioco arcade sparatutto. Abbiamo finito Metaslag 5, ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale e commentate. Ciao a tutti, vi saluto. Missione finale completata. Grazie a tutti.